Ciao da Paolo Milanese, vi parlo del fiore Aether, l'erica. Questo è un po' il fiore per l'egoista, no? A chi si sente pieno di sé, chi fa fatica ad ascoltare gli altri, è amante della solitudine, è concentrato sui propri problemi, è sempre alla ricerca del pubblico. Quindi Aether ci aiuta a prendere contatto con noi stessi, ma senza essere ossessionati dal proprio ego, dai propri bisogni personali. Quindi pian piano avvicinarci anche ad una crescita sociale, a prendere in considerazione anche l'altra, ad ascoltare di più, a condividere. In genere i tipi Aether raccontano sempre i propri problemi a chi gli sta attorno. E quindi Aether è il fiore dell'identità, ma è anche un po' il fiore che rappresenta il bambino capriccioso, che vuole, 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 vuole. Grazie all'equilibrio dato da questo fiore di Bach, si arriva ad essere meno egoisti, a comprendere più chiaramente la situazione e le esigenze di altre persone. Quindi Aether dal bambino esigente all'adulto comprensivo.